Sono passati due anni da quando i talebani sono tornati al potere in Afghanistan e le necessità umanitarie a livello nazionale non fanno che aumentare. A mancare sono soprattutto i finanziamenti senza i quali è impossibile garantire alla popolazione il sostegno di cui avrebbe bisogno. Le Nazioni Unite sono inoltre sempre più preoccupate per le condizioni delle donne. In Afghanistan il numero di vittime di violenze sessuali, psicologiche, economiche e amministrative non fa che aumentare. Alle donne è stata limitata la libertà di movimento, non sono autorizzate a studiare e non possono lavorare neppure per le organizzazioni umanitarie, il che sta rendendo ancora più complessi gli sforzi per portare sostegno alla popolazione. Quella presente in Afghanistan è la più grave crisi umanitaria del pianeta. Per questo le organizzazioni non governative hanno lanciato a più riprese appelli alla comunità internazionale affinché la popolazione di questo paese non venga dimenticata.